Marco Fortunati, chi è il concorrente entrato al GF? Età, lavoro, Instagram? Marco Fortunati, il maestro di sci pronto a stravolgere la casa del GF. Alfonso Signorini ha dato inizio al Grande Fratello presentando al pubblico i concorrenti del tutto estranei al mondo dello spettacolo. Secondo il parere degli italiani sicuramente avranno tanto da raccontare. Qualcuno ha già conquistato i telespettatori alle prime battute come, per esempio, il giovane 31enne di Bologna Marco Fortunati. Durante il video di presentazione Marco, ha mostrato di avere una forte personalità tale da dare del filo da torcere ai concorrenti di quest'edizione. E, il classico ragazzo della porta accanto, in quanto svolge una serie di attività che non hanno nulla a che vedere con il piccolo schermo. Andiamo a scoprire qualcosa in più sul suo conto. Marco Fortunati non nasconde il suo punto debole, il fascino delle donne. Il video ha avuto inizio con i genitori che lo definiscono una forza della natura. Marco non ha nascosto il suo tallone d'Achille, ovvero le donne. Nonostante sia fidanzato con una bellissima ragazza di nome Francesca, ha lasciato intendere di essere stato perdonato in passato per qualche marachella. Ecco come ha esordito nella presentazione, soffermandosi anche sui suoi hobby come lo sport e i viaggi. Inoltre ha ammesso di amare gli animali, soprattutto i cani. Nella quotidianità svolge il lavoro di maestro di sci e taxista, dunque fino a oggi non ha mai messo piede in un contesto televisivo. Ha ironizzato sul fatto di riposarsi quando è in giro per la città con il taxi, e di avere più possibilità di corteggiare delle donzelle quando è alle prese con gli sci. I telespettatori non hanno alcun dubbio. Regalerà tante sorprese nella casa alle prese con il gruppo. Entro nella casa del grande fratello per vincere, la confessione di Marco. Marco ha già mostrato di non avere peli sulla lingua, in quanto da buon sportivo ama mettersi alla prova. Non si tira indietro quando occorre affrontare una sfida, e lo fa con una determinazione tale da intimorire chiunque. Tuttavia nella casa c'è chi non si farà influenzare, ragion per cui ne vedremo delle belle. Per quanto riguarda i profili social non passano inosservati per le foto in cui pratica anche gli sport acquatici. Del resto il mare è la sua più grande passione, come le donne. Nella casa qualche concorrente rappresenterà un pericolo per la sua love story? Per scoprirlo non ci resta che attendere. Per scoprirlo non ci resta che attendere. Per scoprirlo non ci resta che attendere.